Signore e signori, questa sera il programma prevede una vera e propria orgia di comici! Dai ragazzi, forza! Ci siamo, ci siamo! Caratterizzazioni, lo scemo! Io? E chi se no? Lo snob! Sento, una gran puzza di umanità! Il distratto! Eh? Sera, ciao Bernie! Quello che stasera sceglierò tra di voi! Avrà un contratto per il mio nuovo programma comico in prima serata. Non distingueresti un comico da una cariola di letame? Ecco il mio Bernie che non perde un colpo! Ti ricordi quando ti chiamavano sbornia? Ma bevi ancora? Una vera battuta deve avere voglia di cambiare la situazione! Lo cercate di essere profondi. Lo sto cercando dei filosofi. La vita là fuori è difficile. Abbiamo bisogno di farci qualche bella risata. Ma l'avete sentita l'ultima? E per forza l'ho fatta piano! Una partenza spumeggiante! Beh, voi siete diversi di così, porca vacca! Siamo dalla merda. Ci viene a raccontare le tue ossessioni. Sono solo cercando una verità. Chi vuoi che ti resta la tua storia? La maggior parte dei comici serve sul piatto paure, pregiudizi. Sì, ma i migliori! Illuminano! Io non mi metto in fila. Io non do il mio consenso.